Salve, sono Pierandrea Petazzi in Arte Neonbag e dopo il mio video precedente che trattava pluck e campanelle, adesso farò una trattazione di suoni un po' più lenti e più morbidi, in particolare quelli noti come pad. Allora, cos'è un pad? Nel tempo, quando facevo il tastirista più che il produttore di musica elettronica o il sintesista puro, li erano noti come tappeti, tappeti perché erano appunto suoni che venivano utilizzati da mettere sotto, fare da supporto a buona parte del resto della musica che ci veniva messa sopra. Caratteristica tipica di un pad è un attacco lento, quindi cominciamo appunto da questo, anche più lento di così. Ovviamente... Ora, con questa dente di seca così brillante è ben lontano dal sembrare caldo e piacevole. I pad, tipicamente, molta gente parlava sempre dei cosiddetti pad caldi. Cos'è un pad caldo? Un pad caldo è un pad che non è particolarmente pieno di alte ed è in realtà particolarmente carico a basse. Prendiamo un filtro, prendiamo questo XMF1 per ragioni che saranno più interessanti dopo. Tipicamente per i pad si utilizza un filtro due poli o un polo anche, a seconda di come si voglia piazzare la cosa, perché ci piace avere che il calo delle frequenze verso l'alto sia possibile dolce e smooth. Già, per dire, se facciamo la stessa cosa di prima... Abbiamo qualcosa di più vicino a quello che stiamo cercando. Caratteristica tipica dei pad, altra cosa che può essere particolarmente utile è non tenerli così, insomma, pesantemente centrati in mono, perché comprensibilmente, visto che vorranno esserci altre cose, in particolare elementi melodici e ritmici al centro, ci potrà essere utile averlo aperto stereofonicamente e contemporaneamente da che dia un senso di presenza di ambiente. Per pochi altri suoni è altrettanto utile, in realtà ce ne sono diversi altri per cui è altrettanto e forse più utile, però è piuttosto utile in questo caso usare oscillatori multipli, dual o quad, per esempio in questo caso lo metterò in quad, perché questa cosa voglio renderla più importante. Lo allargo stereofonicamente e ci metto un pochino di detune. Abbiamo già... E sostanzialmente, ecco, potrei metterci un po' di release in più, perché così, ogni volta che tolgo la cosa è tutto meno che dolce. Già, un po' meglio, forse ancora minori, ancora più release. E a questo punto potrei passare del tempo a, come dire, personalizzarlo in molti modi. Potrei metterci un po' di keyboard following, perché magari addirittura potrei metterlo anche al cento per cento, per... e poi andandomi a piazzare il mio cut off in maniera opportuna molto in basso, perché adesso risponde... Risponde moltissimo, appunto, al keyboard following. Potremmo... tipicamente lo lasceremmo in modalità polifonica, perché ci piace con un pad l'idea di poter fare degli accordi. Potremmo addirittura metterlo in high, se volessimo, se fosse nostra intenzione, fare moltissimi accordi. Potremmo metterci un po' di glide, o quantomeno di glide 2, perché questa cosa... come potreste sentire, forse... sentite, oltre al muovere... cioè sentite che il filtro, che è seguito dal keyboard following, rispetto a una nota o all'altra, ha un tempo di salita, di spostamento, che un po' arricchisce il timbro quando fate una cosa. Potremmo metterci anche il glide normale, polifonico, che non ho mai capito esattamente zebra come gestisca ma... ma sentite che, insomma, crea questo minimo di... potrei renderlo estremizzarlo per farvi capire cosa sto facendo... può essere utile se vuole dare una certa personalità al vostro timbro, non è ovviamente obbligatorio né caratteristico di un timbro, perché il ragionamento è di carattere funzionale, non... voi volete un suono che, insomma, stia lì e riempia un po' i dettagli del vostro mix senza... senza dare particolarmente fastidio, ma che contemporaneamente abbia quel minimo di colore da dare. Qui lo stiamo facendo brutalmente in sottrattiva, poi brutalmente, insomma, comunque usando un approccio molto molto East Coast, molto tradizionale, avrei potuto fare la stessa cosa in altri modi, avrei potuto fare la stessa cosa utilizzando... entrando nel me... entrando nella wavetable e andando a costruirmi uno spettro, una serie di forme d'onda che mi dessero l'opportuna opportuna soddisfazione e usando quelle invece del filtro. Ma fin qui stiamo facendo un tappeto che alla fine dei conti risulterà statico. L'unica cosa che un pochino lo muove è questo detune, che fa sì che ci siano dei battimenti tra i vari oscillatori e ci dà questa sensazione di movimento, ma potremmo pensare di muoverlo deliberatamente. Per esempio, se mi mettiamo in reset e ci mettiamo a modulare la fase, perché adesso già suonerà... mettiamo il reset e mettiamo anche questa... aspettiamo la pil... la modulazione di... cioè PWM che, come se avete visto il mio precedente video sull'introduzione a Zebra 2, non è esattamente una pulse width modulation. Infatti, anche se ci genera già in questa configurazione un timbro molto più cavo e molto più vicino a una quadra, potremmo prendere e decidere di usare un LFO, piuttosto lento magari, magari addirittura due o tre battute se vogliamo che appaia fuori tempo, anche se poi in realtà non lo è... e poi sarà il caso di dargli un valore alla modulazione, sennò non la sentiamo per nulla. E' già troppa modulazione perché arriva in fondo e conseguentemente abbiamo un punto in cui le due onde si cancellano, questo spike non ci piace, quindi lo rimetteremo al centro. E già questo ci crea un effetto che da un... potremmo ottenere qualcosa di simile come un flanger a valle, però questa è un'altra possibilità. Fate molta attenzione se utilizzate per timbri di questo genere cose come un'onda quadra, perché per quanto possano suonare interessanti, questo loro essere carenti ad armoniche pari gli dia un'utilizzabilità, un essere come dire un po' più vuoti e più facili a non riempire il mix. Se volete fare delle terze maggiori... tendono a generare delle... soprattutto se avessi filtro un po' più aperto, tenderebbe a generarvi delle dissonanze sgradevoli che in un certo senso non sono proprio quello che volete in un pad. Il punto critico è il fatto che quando generate un suono di questo genere volete che riempia lo spazio, ma non lo riempia tutto, che vi lascia lo spazio per le vostre cose fare altro. Visto che comunque di solito la zona che occupa è piuttosto vasta, ma potete potete risolvere questo problema andando a valle a fare magheggi vari di mixaggio con equalizzatori e similia, potete se no pensare già di mettere il vostro il vostro suono in una posizione nella tastiera che sia opportuna, potete pensare di pre-equalizzarlo usando ad esempio come... al posto che un oscillatore geomorph lo mettiamo in spectromorph e andandoci a fare un paio di notch laddove pensiamo che ci possa tornare comodo e andandocelo poi con un analizzatore di spettro a studiare come vogliamo che... dove vogliamo esattamente sia questo notch. In questo caso è quasi impercettibile perché mi sa che è in buona parte al di là di dove si trova il nostro filtro. Per esempio proviamo a fare questa cosa e a trovare una posizione in cui ci piace. Adesso per dire qui lo facciamo finire molto in basso, qui lo portiamo molto in alto e proviamo adesso Morph e andiamo a fare. Ora sentite che questa cosa ha un buco nei medi attraverso il quale potremmo facilmente far passare qualche altro timbro. Se volete che la cosa appaia un po' meno brusca potete anche prendere e andarvelo in realtà meglio. Intanto non avrò voglia di muovere questa wavetable. Potrei, potremmo anche pensare di andare a muovere questa wavetable per il nostro... per durante il nostro... nel movimento del nostro... del nostro pad per dargli un altro dinamismo per cui togliamo per esempio questa PWM che non ci piace più di tanto e dimettiamogli questo LFO2 a modularcelo e il risultato... In questo caso ho utilizzato come ricorderete un LFO normale ovvero un LFO polifonico quindi ogni voce che suono avrà il suo LFO. Potreste per arricchirlo un pochino di più anche per dire modulare con lo stesso inviluppo con cui modulate lamp anche il filtro o potreste modularlo con un secondo inviluppo. Magari lo modulatete in una posizione tale per cui abbia un attacco ancora più importante del primo sustain alto perché volete che il sustain si lo lasciate alto perché volete che sia in fondo al laddove lo avevate messo prima. Poca modulazione perché sennò vi va chissà dove, vi si spalanca... Potreste metterci un pochino di risonanza ma stateci attenti perché sennò vi rischiate che... rischiate che il timbro acquisita delle caratteristiche nasali, risulti anche un po' un po' prepotente nei medi e appunto perde la sua connotazione di pad e vi serve a poco. Ora fin qui sto usando un solo oscillatore e sto facendo diciamo un pad un po' alla vecchia però però volendo si possono trovare molte soluzioni interessanti. Vedete un tappeto così è un po' come un tappetino da bagno monocromatico per cui sempre uguale a se stesso. Potreste prendere e decidere che il vostro tappeto lo volete decorato con dei ghirigori frattali bellissimi. Per fare questa cosa potreste metterci un secondo oscillatore al quale terrete un volume piuttosto basso ma ci arriveremo dopo perché per il momento lo vogliamo proprio sentire lo mettete in spectro blend magari deciderete dopo come lo volete accordato io non so per il momento lo lascerò sulla lascerò accordato sulla fondamentale e gli mettete un po' di questi un po' di spike più o meno non dico casuali ma giù di lì. Questo procedimento che sembra totalmente erratico è totalmente erratico ma vi dirò non mi sento particolarmente in colpa ad utilizzarlo perché avevo visto un po' di patch un po' di preset di zebra realizzate da quel geniaccio che è Howard's car non sapete chi è vi consiglio di googlarvelo perché non so quanti plug in voi abbiate avete notato qualche plug in o in qualche altro strumento che fosse il bloff e il virus o similia avete mai notato dei suoni che avevano un hs di fianco ecco è lui è probabilmente il più apprezzato sound designer al mondo e bravissimo è tra l'altro l'altro nel team di quelli che sviluppano i preset per zebra e l'ho incontrato a francoforte qualche anno fa durante il music messe e perplesso perché utilizzava questa tecnica queste wavetable addittive in maniera molto efficace per creare determinati timbri gli ho chiesto ma come fai a fare sta cosa come fai a capire dove mettere dove mettere le armoniche dove no cioè perché io riesco solo ad andare a caso e la sua risposta è stata beh non è un gran problema perché sai anch'io vado a caso quindi se Howard's car va a caso non mi sento in colpa ad essere io ad andare a caso anch'io quindi diciamo piccola parentesi però vi può essere stata spero vi abbia divertito a questo punto mettiamo un altro filtro LFO a modulare questa cosa il filtro è troppo presente ora questa cosa sentite è diventata una questa sorta di shimmering metallico che ci sta sopra potremmo decidere anche questo che lo vogliamo doppio e dato che stiamo modulando la sua wavetable lo vorremmo a risoluzione più alta per far suonare un pochino meglio queste armoniche però appunto in questo caso abbiamo che queste lo spostamento è un po molto veloce questo LFO 3 messo a un quarto anche questo lo vorremmo piuttosto lento per cui lo vorremmo sicuramente a un volume più basso di così però perché effettivamente sono un po troppo presenti però almeno per il mio gusto questa cosa è più interessante se invece di suonare come una transizione continua tra meno dipende poi dal gusto del pad che volete realizzare diciamo però questa cosa che sto cercando di fare io per la mia idea che avevo ha più senso utilizzare un LFO di questo tipo dovremmo abbassare sensibilmente la velocità portarla anche tipo ad un ottavo se non se non meno vedremo dopo e vi distribuite il vostro il vostro LFO in una maniera un po anche questa erratica finché non vi piace se non trovate qualcosa che vi dia un minimo di soddisfazione visto che per come l'ho disegnata ogni punto della wavetable mi dà una serie di armoniche leggermente diversa ma anche molto diversa dovrei ottenere vediamo che cosa otteniamo esatto questa cosa ora volendo continuare il discorso potrei decidere per esempio di mandare adesso per esempio mi si pone un problema non indifferente perché io vorrò potrei voler effettare tutto questo però potrei per esempio voler mettere moltissimo riverbero a questo oscillatore 2 che mi piace l'idea che faccia questa cosa è un po di riverbero a questo però però per fare questa cosa questa fare questa cosa può essere un po complicato come lo facciamo allora potrei mandare al bus 1 direttamente questo mettere un riverbero un new rev perché ci piace che ha un mettiamo in decay ancora più lungo diamo un po di volume al bus 1 mettiamolo più wet il filtro questo qui non mi piace ancora veramente troppo aperto potrei chiuderlo ancora per dargli proprio perché era veramente troppo brillante andava già mi piace un pochino di più potrei decidere di è un po insolita come cosa perché tipicamente potrei renderlo in buona parte wet così di quello sentiamo quasi solo il riverbero e fare un po di mandata del primo a questo bass è una pratica un po ora cosa vorrei farci ancora cose che mi mancano di cui sento criticamente la mancanza in questo momento sono controlli in tempo reale allora una cosa che secondo me può essere interessante fare è andare nella vostra modmetrics e dare dato che abbiamo degli oscillatori con queste caratteristiche di molteplicità decidere che questo tra l'altro ha il detune a zero diamogli un pochino di detune e allarghiamolo ancora telefonicamente questo potremmo in realtà mettergli anche un detune molto importante e potremmo mandarglielo per dire per esempio nella direzione opposta giusto perché ci piace come idea dato che tanto sono accordati esattamente nella tesa posizione allora io vado a prendere per esempio il mio aftertouch questo è un modo un po' diciamo diverso per fare un vibrato un vibrato del quale non cambia tanto l'ampiezza quanto la frequenza ovvero abbiamo questi battimenti tra le nostre tra le nostre le copie del nostro oscillatore abbassiamolo un po' abbiamo battimenti tra le nostre copie del nostro oscillatore che fanno che si comportano in una certa maniera al momento ma se noi moduliamo il detune quindi lo aumentiamo otteniamo dei vibrati più energici più vivaci e sempre comunque stereofonici in questo caso quindi adesso quando ero di nuovo l'aftertouch mi tocca fare una seconda corsia di modulazione perché non posso fare due destinazioni della stessa cosa e ora andiamo a vedere di settarci in una maniera che ci piace esatto e quindi sto premendo premendo questa cosa possiamo ottenere questo effetto ora cos'altro potrei voler fare la mia modul è ancora priva di un di alcuna destinazione quindi io potrei decidere per dire di mettere un po' di modul al filtro però presenta il problema mettiamo ancora un cutoff più chiuso così da poter avere per esempio poi potremmo fare un'altra cosa visto che abbiamo scelto questo fantastico xmf2 potremmo decidere che questo offset vogliamo che sia un pochino modulato allora questo ancora ci piace utilizzare un lfo polifonico qui diciamo sto andando a mano libera nel senso che sono tutte cose che non ho provato insomma le ho pensate tante volte le sto applicando come mi viene tenendo fede a quello che era il mio intento di qualche che avevo spiegato qualche video fa ovvero darvi modo di come dire buttare un occhio in quello che è il mio processo di lavoro potremmo decidere anche che per sempre la nostra modul vediamo sto sperimentando non ho bene idea cioè ho idea più o meno di cosa potrebbe venire fuori ma non sono non sono troppo sicuro potrei andare a modulare la mia risonanza un pochino così mentre si apre magari anche un pochino di più perché sennò e adesso quindi quando io apro e potrei andare anche sempre con la modul a modulare la velocità di questo lfo in maniera tale da insomma creare una sorta di morph rendendo adesso vi faccio vedere cosa succede potremmo volere questa modulazione molto più importante di quanto non sia per adesso perché secondo me potremmo addirittura decidere in realtà non ci avevo pensato prima che questa cosa non la vogliamo fare deliberatamente noi con un lfo che abbiamo disegnato potremmo decidere che sia un random hold tanto alla fine di dove siamo ci interessa poco e delle due se la cosa perde in periodicità scusate la perdita di alti ma mi stavo un attimo passando la mano davanti alla bocca vediamo come suona sì direi che a questo punto è quasi doveroso quasi doveroso in realtà non strettamente necessario ci si potrebbe aggiungere anche un pochino di delay potremmo metterlo sulla stessa corsia del riverbero metterlo prima del riverbero oppure potremmo metterlo su un'altra corsia anche se questo ci comporta il piccolo problema che ci verrà difficile mandare al delay anche quello che esce da questo oscillatore 2 fin tanto che l'abbiamo fatto in questa maniera potremmo accettare al contrario di riverberare tutto nella stessa maniera e quindi andare dal nostro new rev a metterlo completamente wet il risultato potrebbe essere un po eccessivo perché forse di mandata qua io l'ho messa veramente tanta e dovrò abbassare il volume di questo oscillatore 2 perché questi tini 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 in questa maniera sono un po fastidiosi sono un po eccessivi e dicevo potremmo metterci anche un delay possiamo decidere di regolarcelo poi ce lo mettiamo su un altro su un altro canale abbiamo un delay sincronizzato per quarti che sono un po mettiamocelo per esempio su cose diverse in maniera tale da avere comportamenti diversi e lo spampottiamo un pochino in maniera che sia già spampottato scusatemi avevo l'impressione che fosse al centro invece è esattamente al contrario e sono tutti piuttosto sincronizzati adesso e questo ha il problema di essere perfettamente sono uno completamente a destra e uno completamente a sinistra e hanno lo stesso tempo quindi direi che questo dovrò metterlo a qualcosa di diverso tipo potrei mettere questo a un quarto e questo a un ottavo e vedere un po che cosa succede questo qui lo vogliamo mettere completamente wet dare un po di uscita al nostro bus 2 e dare un po di mandata qualcosa di questo genere un po di più che di te ecco sì direi che era circa quello che stavo cercando bene spero questa mia spiegazione vi sia stata chiara il percorso che sono andato vedisco sono è tutto diciamo in buona parte grasso che cola ho aggiunto un po di cosette e rispetto a quello che era più o meno la base la base l'essenziale per produrre un suono del genere credo che insomma spero di aver trattato buona parte delle cose funzionali di questo discorso ma se non lo avessi fatto se vi fossero cose che sentite di dover aggiungere domande che dovete fare che sentite di che la vostra curiosità per le quali la vostra curiosità agogna risposta lasciatemi lasciatemi nei commenti e vedrò di rispondere come posso nei commenti stessi o magari facendo un video apposta se l'idea mi pare particolarmente interessante detto questo potete trovare un po della mia musica e un link al mio soundcloud che trovate nella descrizione del video mettete dei like sottoscrivete al canale mi raccomando perché sono cose veramente preziose per un per me insomma io cerco di produrre questi video lo faccio per voi ma mi farebbe piacere un giorno che la monetizzazione di youtube mi desse un po di un po di soddisfazione in questo senso e detto questo su questa nota di sincerità e un accenno di avidità vi saluto vi auguro buon divertimento buoni pad o tappeti che riguardiate come li volete chiamare buona musica vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto